L'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B, girone I1 di pallavolo, si è giocata sabato 13 marzo. L'impretec Lucera ha osservato il suo turno di riposo, mentre Florigel Andrea Joy Volley Bari è stata rinviata poiché persistono casi positivi al Covid all'interno della squadra andriese, che hanno bloccato il percorso della Florigel già da qualche settimana. L'unica gara giocata nel minigirone I1 è stata Virtus Paglieta, Indeco, Molfetta finita 0-3, con i parziali di 14-25, 19-25, 18-25. Un risultato che conferma il primato della compagine Molfettese nel minigirone I1, che è in testa 15 punti, avendo vinto tutte le partite disputate finora con una gara ancora da recuperare. Il Lucera è in coda a 0 punti insieme all'Andria.